Un incubatore di impresa sociale diffuso e articolato su 46 comuni della provincia di Pescara è questo il progetto denominato Stella Maris Lab. Progetto che passa per l'attività di formazione, di orientamento e di inclusione lavorativa per 120 beneficiari di 46 comuni della provincia di Pescara divisi per ambiti sociali e si pone l'obiettivo di accompagnare i beneficiari all'autoimprenditorialità. Montesilvano è capofila del progetto che riunisce partners pubblici e privati passando dal comune più grande Pescara a quello più piccolo Corvara attraverso l'azienda speciale per i servizi sociali. È un progetto che siamo felici di portare avanti insieme a altri 45 comuni del territorio un progetto di cui Montesilvano è capofila e che ha ottenuto un finanziamento di 600 mila euro di fondi europei grazie ai quali 120 soggetti che verranno selezionati sulla base di alcuni requisiti previsti proprio dal bando avranno la possibilità di portare avanti dei tirocini formativi molto innovativi che daranno la possibilità appunto a chi rappresenta una fascia sociale abbastanza delicata potrà in qualche modo, come dicevi bene tu, in qualche modo ragionare una autoimprenditorialità cioè una formazione proprio all'avvio di attività imprenditoriali sui territori che ci auguriamo possano avere insomma continuità nel tempo e dare la possibilità appunto a in un periodo storico peraltro difficile come questo a dei soggetti di avere un futuro da un punto di vista lavorativo ovviamente non solo i soggetti saranno fruitori nel momento in cui si avvideranno delle imprese ma a cascata ci saranno antiporsi di lavoro e questo insomma è una gran bella cosa per noi come Montesilvano come capofila per i comuni coinvolti e per il territorio sono tante le imprese che sono state in difficoltà e sono tuttora in difficoltà è altrettanto difficile, anzi è ancora più difficile oggi pensare di iniziare nuove attività e quindi questo progetto darà la possibilità intanto di formare e di avviare attività importanti sul territorio anche da questo punto di vista cioè in questo momento storico sono più le attività che stanno chiudendo più le attività che rischiano di chiudere che quelle ovviamente che aprono e 120 imprese su un territorio oggi rappresentano davvero tanto da questo punto di vista che si avvicinano davvero tanto da questo punto di vista